Massimiliano Allegri Cosa in quel momento aveva nella sua testa? Ci racconta un pochino una sensazione anche dopo un gol del genere, dopo una vittoria così? Mancava ancora un minuto e mezzo, in quel momento lì magari presi dall'euforia del gol potevamo avere un pochino di disattenzione. Visto che abbiamo preso due gole evitabili, uno dove abbiamo difeso male, purtroppo bisogna riprendere a difendere in modo diverso perché nelle ultime sette partite abbiamo preso sei gole nel primo tempo e soprattutto oggi con una certa facilità. Il secondo, c'era la bio che era ferma a metà campo, ci sono ripartiti, bisognava avere l'astuzia di fermare la palla. Oltre tre punti, come detto, però porta via di più la soddisfazione anche della rimonta, di carattere dei suoi giocatori comunque sotto 2-1 in casa in una partita non semplice, che non si era messa nella maniera più semplice oppure ancora una volta un po' di insofferenza, come ho detto poco fa, cioè per una Juventus che non è più solida come siamo abituati a vedere la Juventus di Allegri? Ci sono anche questi momenti, basta lavorarci e riprendere a fare quello che facevamo prima quindi in questo momento è così e cercheremo di invertire il trend, come oggi era importante vincere perché comunque sono tre punti pesanti per la Corsa Champions e soprattutto ci togliamo da queste quattro partite dove avevamo fatto solamente due punti. Prima di lasciarlo allo studio è arrivato l'aggiornamento poco fa, l'ussazione alla luce sinistra per Rabiot e l'ussazione alla spalla sinistra per McKennie, due pezzi importanti in questo momento per la Juventus che non si sa ancora i tempi di recupero, però potrebbero non esserci nelle prossime. Abbiamo altri giocatori, Rabiot e McKennie sono stati molto importanti fino ad ora ora vediamo in settimana in che condizioni stanno per essere a disposizione e quando saranno a disposizione ma sicuramente domenica a Napoli andremo con una squadra giusta per poter fare una bella partita. Studio. Ale Matri. Sì, ciao mister. Ciao Ale. No, oggi al di là degli errori individuali, soprattutto nel primo tempo mi sembra ci siano stati tanti errori di distanze tra i reparti, soprattutto tra quello difensivo e il centrocampo avete lasciato molto spazio ai trequartisti e nel mezzale del Frosinone e è lì che forse vanno un po' messo in difficoltà. Ma sì, nel primo tempo abbiamo difeso male, eravamo lunghi, poi continuavo a giocare questa palla corta loro davano molta pressione e non riuscivamo bene a uscirne. Il secondo tempo abbiamo difeso meglio, sono stati più aggressivi, loro sono un po' calati. Le partite durano a 90 minuti, ecco perché è importante in quei momenti lì quando l'avversario è alto livello sul piano fisico o fa uno sforzo per stare dentro la partita, ti devi avere la capacità di non subire i gol che abbiamo subito. Nove gol nel 2024, nessuno ha segnato come lui. Su Vlaovic che tipo di lavoro avete fatto voi ma ha fatto lui per avere questi numeri qui? È una crescita di Dusan perché quando tempo fa giocava delle partite era sempre nervoso, cercava sempre viva con lanciare i gol e invece era molto più equilibrato, nel ritmo partita, non esce mai dalla partita e questo è molto importante. Ma c'è un problema chiesa invece in questo momento per voi là davanti? Ma non c'è assolutamente un problema chiesa perché comunque Federico torna da un periodo dove ha alternato allenamenti, ha bisogno di ritrovare una buona condizione, oggi comunque fino a che è stato in campo si è messa a disposizione la squadra, deve rimanere sereno perché è un giocatore importante per noi e sicuramente lo sarà da qui alla fine del campionato. Lo dicevamo prima Ale, 1.2 punti oggi per Massimiliano Allegri, è il primo allenatore a superare questo traguardo. 300 io li ho fatti fare io, a parte quelli di Lecce. Di Udine, visti, quelli di Udine. Ah, quelli di Udine, ti ricordi bene. Cos'è questa storia di Udine? Udine eravamo in vantaggio, una palla clamorosa, un contropiede, un 3 contro 1, un 2 contro 1, che mi ricordo a chi l'ha data Ale, sicuramente non a quella maglia uguale, alla nostra era, era una maglia diversa. Saremo di Cagliari. Cagliari ma saremmo arrivati, eravamo raggiunti il quarto posto. Eravamo un quarto in quella partita lì, l'ha fatto un po' pesare lì. Se la ricordo ancora. Salutando Allegri, giuntoli nelle pre-partita, testuale, vogliamo tenerlo e lui è felice di restare con noi. Come le commenta queste parole? Sono contento perché comunque con la società stiamo lavorando bene, sono in sintonia su tutto. È normale che in questo momento bisogna pensare a quello che sarà il futuro, che sarebbe il presente di ora, perché non abbiamo ancora raggiunto la Champions e quindi bisogna pensare a questo. Poi dopo ho un contratto fino al 2025, l'ho detto ieri in conferenza, lo ripeto, sono dieci anni che sono alla Juventus e ne sono orgoglioso e lavoro per questa società, per questa squadra. Per la proprietà, con grande dedizione, con grande amore e passione, perché ormai sono legata anche affettivamente. E questo non so se è un bene o un male. Lui dice è felice di restare, è così. Lei è felice di restare alla Juventus? Assolutamente sì, perché comunque abbiamo iniziato un percorso prima con il presidente che c'era prima, con Cherubini, e lo stiamo continuando con Giuntoli, con Manna, con Scanavino, che comunque andiamo d'accordo, abbiamo degli obiettivi importanti, però in questo momento io devo pensare a quello che è il presente della squadra e della società, perché comunque tornare in Champions è un valore aggiunto sia tecnico e anche economico, soprattutto economico per la società. e poi la società in questo momento farà le valutazioni su tutto, su quelli che saranno i programmi futuri. Grazie Allegri, alla prossima. Grazie a voi, grazie. Buon proseguimento a Massimiliano Allegri.